Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Trappa e oggi sono sulla Nox Crew Saltagrille Si chiama in italiano perché io ho Minecraft in italiano Comunque Ora noi stiamo su Questa mappa Che secondo me Io appena l'ho vista, ho detto ci devo fare un video Perché è molto Molto futuristica da un certo punto di vista Comunque Bando alle ciance Iniziamo il video Comunque ragazzi Se mentre il video vedrete che shifterò È perché Ragazzi Sono stata a casa delle mie amiche, ho giocato alla play E mi sono arrugginita Quindi, vabbè Ciao, vi lascio al video 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 Grazie a tutti 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 E noi ci vediamo al prossimo video Ciao